partecipato. Il servizio di Guido Pelloni. Moderata soddisfazione. Si può riassumere così il sentimento prevalente tra i calciatori e i marchigiani a conclusione dell'Obuv Mirekogi, la fiera internazionale delle calciature e dei prodotti in pelle svoltasi a Mosca. La temperatura vicina all'oggero ha ricordato a tutti che sta cominciando il lungo inverno russo, ma gli anni della glaciazione economica sembrano essere finiti. Non ci sono dati ufficiali, ma numerose aziende parlano di incrementi negli ordini che vanno dal 20 al 30%. Naturalmente non per tutti è così. Sono le industrie più strutturate e quelle che presentano un prodotto medio-alto a ottenere i risultati migliori. I nostri imprenditori che hanno partecipato all'Obuv di Mosca hanno consolidato quello che era già il loro posizionamento di mercato e direi anche che hanno sicuramente migliorato la propria posizione. Ancora la nostra moda è apprezzata a livello mondiale, in particolare nel mercato russo dove sappiamo che oggi è il mercato per il nostro territorio il mercato più importante. Tra le 200 industrie italiane che hanno partecipato alla rassegna Moscovita, un centinaio sono del Fermano e una trentina del Maceratese. Per gli imprenditori marchigiani l'Obuv è, dopo il micame di Milano, la rassegna che promette di ottenere i migliori risultati. Opportunità e rischi vanno però insieme. Io credo che il mercato russo per le calzature meridini di qualità sarà ancora un mercato più importante. Le preoccupazioni sono quelle di un abbassamento notevole dei prezzi che ci porta verso una fascia di mercato più media per cui siamo più esposti alla concorrenza dei prodotti e soprattutto quelli fatti in Cina. in Cina. In Cina. Grazie.